Superbonus, addio. Lo stop del governo di fatto non consente più di cedere i crediti o applicare lo sconto in fattura, anche se non sono stati cancellati bonus fiscali edilizi. Ma è del tutto evidente che il provvedimento di Palazzo Chigi avrà delle conseguenze, soprattutto sui contribuenti che percepiscono un reddito medio-basso. Condivisibile o meno, spiega l'analista Davide Stasi, resta da studiare ora un meccanismo che salvaguardi la numerosa fascia di contribuenti con reddito medio-bassi, che verrebbe esclusa se i lavori venissero rimborsati con la sola detrazione e dichiarazione di redditi. Per recuperare 100.000 euro di rimborsi IRPEF spalamati in quattro anni, occorrerebbe un reddito anno di intorno ai 70.000 euro. Risultato, sono oramai fuori dalla maxi agevolazione al 90%, prima del 110, i condomini meno facoltosi, ma anche i proprietari di immobili unifamiliari e indipendenti, in quanto col decreto aiuti quater, è stata introdotta una proroga per l'accesso delle unifamiliari al superbonus, purché siano rispettati alcuni paletti. Deve trattarsi dell'abitazione principale, di cui essere proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile, ma soprattutto avere un reddito non superiore a 15.000 euro in base al nuovo quotiente familiare. E proprio il quotiente familiare, sul quale peraltro sono ancora attesi i chiarimenti delle entrate, rappresenta l'elemento di novità. Ha infatti una struttura diversa rispetto all'Ise perché considera solo i redditi e non i patrimoni. Ad averla peggio, come spesso accade, sono dunque i cittadini che possono contare su un reddito minore. Chi ha un reddito di 15.000 euro, in qualche caso figlia carico, difficilmente infatti dispone della liquidità necessaria per pagare di tasca propria i lavori di riqualificazione che possono oscillare tra gli 80.000 e i 100.000 euro. Se venisse superato questo primo scoglio, ce ne sarebbe poi un altro, vale a dire la capacità fiscale. Ma non mancano le alternative al superbonus. Sono tante infatti le norme che negli ultimi anni hanno interessato la fiscalità immobiliare. Le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state introdotte già a partire dal 1997, mentre dal 2007 sono state previste detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica. C'è di più. Le detrazioni per ristrutturazione edilizie sono state fissate al 50% per le spese sostenute entro il limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. L'ultima agevolazione in ordine cronologico prevede invece una detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e alla eliminazione di barriere architettoniche fino al 31 dicembre 2025.